22 novembre 2005 Angela Merkel viene eletta cancelliere. Prima donna a ricoprire la carica trasformò la Germania nello stato più potente d'Europa, divenendo figura dominatrice delle politiche dell'Unione Europea per più di un quindicennio. È stata definita l'inattesa. Luc, sempre identico per non distrarre l'interlocutore, regola del silenzio per collaboratori ed amici, ha lasciato il potere per scelta, senza essere cacciata, in un momento perfetto, dopo aver risolto la crisi finanziaria interna, anche se per alcuni anni, sostenendo l'austerità, aggravò le condizioni di alcune economie di paesi europei già in ginocchio. Ottima giocatrice di scacchi, temporeggiare è stato uno degli strumenti politici vincenti. Quando tergiversava su un tema, qualcuno ricordava un episodio della sua giovinezza. La famosa lezione di nuoto, in cui rimase per 45 minuti sul trampolino, fino al momento esatto in cui suonò la campanella. Durante la guerra in Siria, di fronte alla più grave crisi di rifugiati in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale, ha mantenuto aperti i confini del suo paese per tutta la durata dell'emergenza umanitaria. Grazie alla sua fermezza, un milione di persone hanno trovato rifugio in terra tedesca. Grazie a tutti.